Una delle migliori dell'anno, credo di conseguenza poter dire che c'è stata una buona ricezione di quello che è successo a Milano sul quotidiano, credo che questo sia un punto, anche se siamo a marzo, anche se siamo in una china inteso, siamo agli ultimi tornanti, però è importante che la squadra continui e abbia dei sussulti positivi come è stata questa settimana, credo che i primi minuti, i primi dieci minuti siano stati il trend che ci siamo trascinati durante la settimana, credo che abbiamo ancora più di una cosa da migliorare, ma perché sono altrettanto convinto, perdonatemi, ma abbiamo ancora del tempo da investire sugli inserimenti, credo altrettanto che dobbiamo lavorare anche sulla continuità sui 40 minuti, coinvolgendo e facendo sì che anche la panchina coinvolta con un senso di responsabilità da parte di entrambi, mia e loro, possono darci un contributo che ci permetta di dare all'interno della stessa partita continuità a prescindere da chi sia in campo.